buongiorno a tutti in questa lezione nella successiva parleremo di fogli di stile quindi il meccanismo che abbiamo detto nelle precedenti lezioni ci serve a dare un aspetto al contenuto della pagina html secondo quanto desideriamo sia dal punto di vista della presentazione sia dal punto di vista del posizionamento degli elementi all'interno della pagina quindi questo è l'obiettivo di queste lezioni questa è la successiva quindi prima di tutto cercheremo di dare uno stile nel senso appunto di presentare il contenuto nella forma grafica che più ci che desideriamo quindi per esempio dimensioni font colori box e così via e poi parleremo più avanti nella lezione successiva di in parte anche in questa per la verità di disposizione degli elementi nella pagina e di come generare e creare dei buoni layout usando eventualmente anche delle librerie quindi dei framework appositamente già studiati per fare questa operazione quindi cominciamo dalla prima parte con due nozioni di base di css quindi affronteremo questi argomenti per quanto riguarda il css focalizzandoci in particolare sulla versione 3 del css che quella di fatto in uso che anche questo è uno standard in evoluzione come la html 5 quindi non c'è un punto fermo al quale sono arrivati dopodiché arriverà il 4 ma appunto ci sono vari elementi che concorrono a contribuire al css 3 che appunto evolvono nel tempo questa è la storia a partire dal css versione 1 1996 diciamo che col css 2 che ha fornito sostanzialmente tutta una serie di funzionalità che sono quelle che vogliamo andare ad utilizzare oggigiorno seppure in forma diciamo più di base siamo intorno al 2011 quindi circa nove anni fa col css 3 diciamo che appunto si è avvenuta questa separazione dei vari componenti che contribuiscono allo standard un po come in html 5 e quindi ci sono parti differenti che possono essere a uno stadio di sviluppo differente e che mano a mano vengono portati avanti e sviluppati sempre più e di conseguenza il supporto da parte dei browser può essere più o meno ampio in questo senso questa slide mostra sulla linea verticale il tempo che aumenta scendendo e quindi dal primo versione della prima versione css abbiamo avuto la versione appunto 2 e la quale è evoluta nella 3 e all'interno della 3 ci sono diversi elementi quindi per esempio la questione dei selettori come andrei di cui andremo a parlare tra tra poco piuttosto che i bordi sono diventati più gestibili arrotondati con vari effetti e così via piuttosto che la gestione delle immagini oppure addirittura cose al di fuori diciamo da del css versione 2 quindi metodi di disporre i contenuti in maniera differente per esempio su più colonne col testo che scorre automaticamente tra le colonne piuttosto che layout differenti tipo grid flex e così via cercheremo di dare un overview di tutto questo partendo dalla base questa in realtà abbiamo già accennato al fatto che il css è di fatto un file di testo che è basato su una serie di regole ogni regola è un'affermazione riguardo un aspetto di tipo stilistico quindi di tipo di come deve apparire il contenuto sulla pagina di uno più elementi html le regole sono composte da un selettore che dice a cosa la regola si applica e dalla regola stessa composta da una serie di proprietà le quali vogliamo dare dei valori eventualmente più di una quindi separate da punte virgola e tutto racchiuso dalle parentesi graffe prendiamo ad esempio un documento html relativamente semplice ma comunque che contiene già un certo numero di elementi html quindi vedete l'elemento html che racchiude head e body come dicevamo all'interno del quale sono presenti dei div in uno di questi è presente una tabella quindi con le sue righe ognuna di queste ha una certa serie di celle quindi di elementi di tipo dato piuttosto che di header e un altro div che contiene degli elementi in line come questo di emphasis piuttosto che dei link piuttosto che un'immagine e così via nel momento in cui il browser incontra un documento di questo tipo come avevamo detto nella lezione precedente lo parsifica e quindi lo trasforma in una struttura dati come quella che vedete qui nella slide quindi questo è il corrispondente del documento precedente quindi c'è un head, body al di sotto del quale c'è tutto e ci sono i vari div un div che contiene la tabella che ha quattro righe e così via a scendere all'interno degli elementi della tabella piuttosto che un altro div che contiene testo piuttosto che elementi di emphasis piuttosto che un link che contiene un image eccetera parliamo di questo albero perché dobbiamo sempre riferirci a questo albero nel momento in cui parleremo di regole css che si applicano a elementi html che quindi sono i nodi di questo albero e quindi dobbiamo sempre avere in mente dove sta il nodo nell'albero html perché queste regole poi si applicheranno a cascata anche i sottonodi e così via quindi con la pratica verrà naturale pensare in questi termini quindi i documenti html sono degli alberi e lo stile specificato nei fogli di stile è ereditato lungo i rami dell'albero che vanno verso il basso quando si incontrano regole che eventualmente siano in conflitto la regola più specifica vince non è detto che le regole siano necessariamente in conflitto per esempio se riguardano aspetti differenti come in questo caso no, in questo caso riguarda lo stesso aspetto che il colore ma se uno riguardasse che so il colore l'altro il font le regole possono essere applicate entrambi in questo caso invece diciamo per esempio che si applica un certo colore al testo dell'elemento body e quindi questo colore verrà applicato a tutti i sotto elementi che quindi sono tutti quelli che vedete qui in questo semplice esempio un paragrafo, un header e una lista non numerata e se c'è una regola che si applica ad un sotto elemento a questo sotto elemento o agli eventuali suoi elementi figli si applicherà il valore corrispondente alla proprietà diciamo più vicina all'elemento stesso quindi questo è anche abbastanza intuitivo da capire nel senso che chiaramente applichiamo una specie di default e se vogliamo fare delle variazioni la regola più specifica quindi vince nel senso che è quella che effettivamente verrà poi applicata la sintassi delle dichiarazioni è semplice come quella che abbiamo visto in cui abbiamo una proprietà separata da due punti e poi un valore eventualmente anche su più righe tanto abbiamo le parentesi graffe aperte e chiusa che ci aiutano a tenere insieme le proprietà che corrispondono allo stesso elemento vediamo adesso come dichiarare poi gli elementi tramite i selettori cerchiamo sempre di seguire diciamo le buone pratiche per esempio il punto virgola finale non è obbligatorio però diciamo è sempre una buona pratica così quando aggiungiamo una nuova proprietà non ce lo dimentichiamo le proprietà sono tantissime come vedete e sono più di 200 nel CSS per me nelle versioni più recenti del CSS e per ognuno di queste proprietà nella specifica del CSS è scritto quali sono i valori ammissibili che possono essere numeri per esempio dimensioni del font dimensioni in termini di numero di pixel e così via misure, percentuali eventualmente se ci sono dei posizionamenti che vogliamo fare tramite delle percentuali oppure dei colori eventualmente specificate nel nome piuttosto che in altri formati come previsto dallo standard oppure dei possibili valori in forma di string quindi per esempio abbiamo già visto che sono la proprietà display quindi che può avere i valori in line block e così via quindi ci sono tutta una serie di possibili valori enumerabili enumerati nello standard che possono essere utilizzati inoltre per ognuno di queste proprietà è specificato anche quali sono gli elementi che possono avere tale proprietà e se la proprietà si applica a tutti gli elementi figli quindi in certi casi ha senso per esempio che so per un colore può avere senso applicarlo agli elementi figli in altri casi potrebbe non avere senso per esempio se ho un'immagine di sfondo l'immagine di sfondo magari lo voglio applicare all'intera pagina ma non ripetere ogni volta che c'è un elemento nuovo e quindi disallineare l'immagine di sfondo e così via questo è un piccolo esempio ma ce ne possono essere tanti altri per esempio voglio dare una dimensione in termini di larghezza al mio elemento e non si può applicare i sotto elementi altrimenti i vari sotto elementi non riesco più in pagina all'interno dell'elemento padre e così via le proprietà CSS sono tantissime come abbiamo detto e le possiamo dividere per categoria secondo quanto vedete sulla slide dalle più diciamo così banali proprietà che riguardano che so il colore o questi aspetti che so il bordo dimensioni del bordo colore del bordo tipo di bordo lì continuo tratteggiato eccetera a altri tipi di proprietà per esempio che riguardano di più il testo per esempio font quindi il singolo carattere quindi il tipo di font la dimensione del font e così via piuttosto che il paragrafo text sta di fatto qui per paragrafo piuttosto che ha proprietà che si applicano a tipi particolari come table e così via o liste eccetera possiamo andare a vedere anche su questo tutorial come su tanti altri che trovate online esempi pratici di come usare il manuale di riferimento per andare a appunto scoprire che cosa possiamo usare quali sono i valori possibili e così via per esempio proprietà di animazione qui vedete sono specifiche del CSS3 e non erano presenti prima di tale versione in generale spesso c'è una proprietà che le racchiude tutte proprietà più specifiche come quelle che vedete di sotto oppure possiamo andare a modificare anche valori per certe singole proprietà specifiche quindi questo per esempio per l'animazione piuttosto che il background background color background image che so apriamo per esempio image giusto per farvi vedere che per esempio nel caso dell'image è possibile specificare questi quattro valori di cui il primo è un url che quindi sarà specificato secondo la sintassi css dell'url che potete andarvi poi tranquillamente a vedere per conto vostro come quella per i colori e così via e quindi per ognuna di queste proprietà c'è scritto il comportamento cosa significano questi valori per esempio l'url appunto è un'immagine no background image nel caso in cui mettiamo non c'è il valore iniziale quindi il suo valore di default che per esempio è quello che proviene dal browser oppure va preso dall'elemento di livello superiore e quindi ci sono tutti ci sono tutte queste diciamo proprietà listate con il dove sono a disposizione a che elementi si applicano se reeditano dal padre e così via quindi sostanzialmente si tratta quindi di prendere un po' di pratica con queste proprietà e noi cercheremo di evidenziare nel discorso diciamo le proprietà che sono più utili per quanto riguarda il diciamo lo sviluppo pratico delle nostre applicazioni possiamo ancora guardare qualche proprietà per esempio bordo per esempio nella proprietà bordo la proprietà bordo di cui comunque riparleremo perché c'è un specifico modo di gestire i bordi in CSS che è il box model quindi per quanto riguarda il bordo possiamo specificare la dimensione lo stile il colore piuttosto che quelle due proprietà quei due valori che abbiamo visto prima initial inerit ovviamente per ognuna di queste c'è scritto il significato e dove possiamo andarle ad utilizzare quindi questa è la possibilità per esempio del bordo piuttosto che border color per esempio prendiamo border color e si potrà specificare un colore piuttosto che un valore di trasparenza piuttosto che altri valori quindi dovete guardare come si specifica un colore in CSS se direttamente tramite i componenti rosso, verde e blu piuttosto che tramite dei nomi predefiniti per esempio CSS color values possiamo andare a vedere vi spiega che ci sono dei valori predefiniti piuttosto che appunto usare la notazione esadecimale per andare ad assicurarsi che il colore sia sempre lo stesso in particolare perché queste keyword come si suggerisce qui in questo tutorial potrebbero essere e corrispondere a colori leggermente diversi nei vari browser continuando nelle nostre slide possiamo andare a parlare ora di selettori quindi ciò a cui applichiamo queste proprietà di cui avete visto un piccolo estratto dal sito che abbiamo visitato il il modo con cui si decida che cosa si applica una regola CSS è il selettore quindi ciò che scriviamo prima dell'aperta parentesi graffa nella regola esistono tutta una serie di pattern che possono essere usati per selezionare l'elemento o gli elementi a cui si vuole applicare lo stile ci sono tre principali tipi di selettori anzi in realtà per la verità è quattro questo è stato aggiunto nel CSS3 più il cosiddetto pseudo selector il primo è il più facile ed è sostanzialmente la selezione basata sul nome del tag HTML il secondo è il selettore di classe che è quello che scriviamo nell'attributo class degli elementi HTML e lo indicizziamo lo diciamo raggiungiamo in CSS tramite l'annotazione che inizia col punto l'id invece è appunto il valore dell'attributo id nell'elemento HTML e lo raggiungiamo tramite l'annotazione cancelletto e in CSS3 è possibile anche indirizzare un qualsiasi elemento HTML che abbia un certo valore per un certo attributo che scegliamo noi quindi con questa annotazione nella parentesi graffe e quindi non solo limitarci a classe uguale oppure id uguale in più ci sono questi pseudoselector che iniziano per due punti che sono predefiniti nel CSS e di cui diremo tra poco e che sostanzialmente consentono di fare in modo che la regola si attivi solamente in funzione di certi stati degli elementi HTML quando c'è per esempio interazione da parte dell'utente l'elemento il selettore di elemento è appunto quello più facile quindi per esempio abbiamo un H1 che quindi è un titolo di livello 1 andrà a prendere tutti gli elementi H1 nel nostro documento HTML e applicherà le regole in questo caso per esempio li farà diventare in rosso queste regole verranno inserite in un foglio di stile solitamente con estensione .css non è l'unico posto dove le possiamo mettere ma diciamo che per semplicità per ora abbiamo un unico foglio di stile che contiene tutte le regole e le regole si applicano a ciò che scriviamo nel selettore il selettore di classe nel momento in cui abbiamo degli elementi con class uguale qualcosa indipendentemente dal loro nome quindi qui abbiamo un P un paragrafo piuttosto che un H3 questa regola che inizia col punto andrà a prendere tutti gli elementi che hanno class uguale quello che ho scritto qui quindi blue text e andrò a impostare in questo caso di nuovo al colore che in un esempio semplice lo farò diventare blu e questo si applicherà a tutti gli elementi figli del oltre che all'elemento stesso anche a tutti gli elementi figli dell'elemento stesso e quindi in particolare in questo caso al testo e così via quindi questo è il contenuto HTML e questo è il contenuto del file CSS selettore ID analogo solamente che nel valore dell'attributo il valore dell'attributo diciamo indicizzato col cancelletto e l'attributo si chiama ID e quindi generalmente c'è un unico anzi dovrebbe esserci un unico ID per con un certo valore per un documento HTML e quindi con questa selezione di fatto applico le mie regole solamente a quell'elemento eventualmente a tutti i sotto elementi come abbiamo detto prima quindi potenzialmente anche a tutti i sotto elementi i selettori di pseudo di pseudo classe sono quelli che iniziano col due punti e ci si basa su questi per dare uno stile ad un elemento sulla base di qualcos'altro che non sia la struttura del documento quindi i nomi dei tag piuttosto che gli attributi che sono stati inseriti per esempio cosa che cambiano dinamicamente l'esempio più classico è quello del tag A dove i link a seconda che siano stati visitati non visitati ci sia il mouse sopra siano stati cliccati e così via possono cambiare colore in questa maniera realizziamo semplicemente con una semplice regola senza bisogno di scrivere codice ma solo con una dichiarazione CSS il meccanismo tramite il quale quando passiamo su un link il testo cambia colore oppure appunto si sottolinea o succede qualche altro effetto grafico che ci rende l'interazione più piacevole la A non è quindi il tag A non è l'unico elemento sul quale possiamo andare a lavorare per esempio possiamo lavorare sulle righe della tabella in maniera da evidenziare la riga sulla quale per esempio il mouse sta passando piuttosto che la casella di un form e così via ci sono i selettori di attributo come dicevamo che possono avere una sintassia anche un po' più complicata di quella base che abbiamo visto prima attributo uguale a un certo valore quindi o attributo che semplicemente hanno l'attributo indipendentemente dal valore piuttosto che tutta una serie di meccanismi di selezione che possono essere più o meno complicati per esempio iniziano per piuttosto che che contengono la parola eccetera eccetera è inutile che andiamo a vedere tutti i dettagli sappiate solo che esistono e quando c'è bisogno si andranno eventualmente a cercare una cosa importante è che è possibile combinare i selettori tra loro quindi la stessa regola CSS non devo ripeterla tante volte quindi fare un copy and colla che chiaramente quando si programma si progetta qualcosa è sempre una cosa da evitare di fare se è possibile se le cose sono uguali per evitare che poi in caso di modifiche debug e così via ci sia la possibilità di sbagliarsi e quindi posso combinare più selettori i tre selettori anzi i quattro selettori di base li posso combinare direttamente in questa sintassi quindi nome dell'elemento appunto con la classe nome della classe eventualmente cancelletto l'identificativo dell'attributo ID ed eventualmente un nome di attributo uguale valore con la sintassi che abbiamo visto prima ma in più posso combinare anche più selettori indipendentemente per esempio con la virgola ciò che scrivo con la regola CSS quindi aperta graffa qualcosa si applicherà sia al primo selettore che al secondo selettore se invece metto lo spazio si applicherà al secondo selettore che però deve essere all'interno del primo selettore quindi tutti i selettori S2 che non sono quindi tutti gli elementi classe eccetera che non sono però dentro quello specificato del primo selettore non saranno toccati dalla regola e così via per cose più complicate e per la verità ogni tanto anche abbastanza rare quindi viene dopo viene e così via qui vedete la descrizione diciamo presa appunto da una risorsa in rete che ci descrive che cosa fanno in parole semplici vari selettori e quindi per esempio appunto il maggiore seleziona tutti gli elementi selezionate questo selettore dove il parent quindi l'elemento immediatamente superiore nell'albero del HTML che abbiamo visto prima è di un certo tipo per esempio div quindi se sono messi immediatamente dopo piuttosto che se semplicemente è uno dei tanti figli dell'elemento padre e così via attenzione a cercare di fare dell'HTML che abbia un senso perché più ha senso l'HTML che scriviamo quindi usiamo degli elementi che siano significativi dal punto di vista del contenuto quindi titoli H1 piuttosto che liste piuttosto che altri elementi di questo tipo article eccetera e più ci troviamo bene poi quando dobbiamo scrivere le regole CSS perché capiamo immediatamente dai selettori a che cosa queste si applicano il fatto che siano disponibili selettori di D e di classe ci consente di usare dei significati addizionali rispetto a quanto è disponibile nella versione base dell'HTML5 e il fatto di avere dei tag generici di tipo blocco piuttosto che inline come i div e span ci consentono anche di aggiungere strutture addizionali sono trasparenti fino a che diciamo non li utilizziamo con qualche meccanismo CSS per dare una regola che si applichi a quanto contenuto appunto all'interno dei tag div e span il div element che sta per divisione è utile per aggruppare elementi di tipo blocco e anzi di tipo blocco e di tipo inline possono essere però principalmente di tipo blocco per dividere un documento in sottopezzi sottoparti che abbiano un significato che tipicamente viene definito tramite per esempio un attributo id piuttosto che un classico da usare solamente se necessario non ridondante per esempio se in questo esempio abbiamo una lista di elementi che sono sostanzialmente delle possibilità di selezione di un menu che è un menu di navigazione quindi questo potremmo esprimere tramite il nome che assegniamo all'attributo id ma sarebbe molto meglio prima di tutto non usare un div perché c'è già la nord red list e quindi si potrebbe già applicare l'id direttamente la nord red list ma siccome stiamo cercando di usare html5 non si vede perché non possiamo usare per esempio il tag menu che già ha questo significato e che ci consente poi di diciamo esprimere il fatto che possiamo fare una selezione di uno di questi elementi di questa lista all'interno di un menu di navigazione poi se il fatto se questa lista verrà visualizzata in verticale in orizzontale o in qualche altra maniera questo sarà dato dal css tramite l'applicazione di regole agli elementi nav menu e così via quindi gli elementi potranno avere anche regole e in quelle proprietà ci sono delle proprietà che ci consentono anche di determinare dove gli elementi appaiono sulla pagina che è un argomento diciamo che affronteremo poi un pochettino più avanti in questa discussione l'elemento span come abbiamo già detto è utile per raggruppare o identificare degli elementi di tipo inline e quindi quelli che vengono disposti da sinistra a destra eventualmente andando a capo come se fossero sostanzialmente del testo di nuovo anche qui non esageriamo nel senso che se sono disponibili dei tag apposta col significato che desideriamo chiaramente usiamoli come in questo caso time non esiste un tag per l'autore quindi in questo caso ha probabilmente senso anzi ha sicuramente senso usare uno span class author per dire che diciamo ci sono degli elementi fili in questo caso il testo che ha un certo significato l'autore e possiamo diciamo manipolarlo così assegnargli uno stile facilmente in ht in css usando il il selettore di classe e dando un nome intuitivo ci verrà anche intuitivo farlo all'interno del del nostro css quindi cerchiamo sempre di evitare strutture come quelle che vediamo a sinistra div div con degli altri div all'interno e così via div sup ma cerchiamo di usare dei tag che abbiano che siano espliciti in termini di che cosa contengono al loro interno per esempio header piuttosto che footer piuttosto che article e così via e chiaramente questi rendono la pagina molto più leggibile dal punto di vista di chi deve sviluppare la pagina poi magari dal punto di vista della visualizzazione è uguale identico quindi per l'utente finale non cambia nulla ma per chi invece sviluppa la pagina e scrive qualcosa che vuole cercare di mantenere ordinato e diciamo ben gestibile è molto più facile farlo usando gli appositi tag che sono diciamo pensati allo scopo parliamo ora di una proprietà CSS molto importante l'abbiamo già nominata più volte che è la proprietà display che è presente in tutti gli elementi e che ci consente di controllare come questi vengono visualizzati prima di tutto ci consente soprattutto di controllare se l'elemento si comporta nella sua diciamo modalità di default ogni elemento ha la sua modalità di default block o in line l'abbiamo detto quando abbiamo parlato di HTML o se vogliamo variare questo tipo di comportamento per esempio se prendiamo un elemento tipicamente block quindi che viene messo uno sopra l'altro nella visualizzazione HTML se non interveniamo in maniera differente lo vogliamo fare diventare uno dietro l'altro sulla riga stessa possiamo farlo diventare in line semplicemente assegnando alla proprietà display il valore in line questo può essere utile per esempio nella lista di cui parlavamo prima che è sostanzialmente un menu se vogliamo fare un menu orizzontale chiaramente dobbiamo rendere questi li possiamo fare in modo che vengano visualizzati uno dietro l'altro sulla stessa linea cambiandogli la proprietà si può fare anche l'opposto cioè prendere degli elementi in line per esempio tipo span e farli diventare block questo solitamente è un po' meno utile è un po' meno senso però potrebbe succedere che sia necessario questo per esempio con una figura o qualcosa di questo tipo quindi queste proprietà hanno un loro valore di default e possono essere cambiate dal css inoltre è possibile usare la proprietà display anche per nascondere degli elementi nascondere nel senso che se mettiamo none come valore di display l'elemento sparisce proprio del tutto dalla pagina ma anche dall'albero scusate dalla la pagina viene renderizzata come se l'elemento non ci fosse l'elemento resta e possiamo renderlo visibile cambiando appunto l'attributo display e questo è utile per esempio per precaricare delle cose che vogliamo rendere immediatamente visibili per esempio a fronte di un'interazione da parte dell'utente e così via quindi poter poi da codice o in qualche maniera andare a variare dinamicamente questa proprietà ci consente di rendere immediatamente visibile qualcosa che in realtà è già lì ma semplicemente non è stato visualizzato e incluso nel rendering nella trasformazione grafica della pagina in qualcosa di visualizzabile questa cosa non è da confondersi con l'attributo visibility che possiamo impostare a hidden quindi nascosto in questo caso l'elemento è ancora lì è semplicemente non visibile quindi occupa dello spazio e quindi diciamo lo rendiamo visibile o invisibile ma è ancora lì e ci occupa dello spazio all'interno della pagina per esempio potrebbe essere un eventuale spazio per un messaggio di errore che tipicamente non viene visualizzato perché non ci sono errori nel momento in cui c'è un messaggio lo rendiamo visualizzabile e facciamo apparire il messaggio però tiene dello spazio a differenza del precedente dove invece l'elemento non viene considerato in fase di rendering della pagina e qui vediamo una lunga lista di pseudo class selectors quindi i selettori di pseudo classe che abbiamo già intravisto per esempio per gli A quindi i link però è possibile anche usarli per andare a selezionare particolari elementi tramite altri selettori come per esempio i selettori di elemento per esempio prendiamone uno a caso questo due punti due punti after ci indirizza qualcosa che sta subito dopo il contenuto di ogni elemento P e così via oppure gli input disable prendiamo tutti gli elementi di input disabilitati che magari li rendiamo grigi in maniera che si veda la distinzione tra quelli abilitati e disabilitati e così via tutti questi pseudo class possono venire utili appunto nel dare uno stile alla pagina che ci interessa dare per riuscire a trasmettere il messaggio da parte dell'interfaccia utente che desideriamo chiaramente il loro supporto varia a seconda diciamo del tipo di selettore e del tipo di pseudoclasse anzi ci sono selettori diciamo usati già da tempo e altri che invece sono un po' più nuovi quindi potete guardarvi questa lista nel caso ci fosse necessità abbiamo evidenziato diciamo i più importanti e andiamo ora a parlare del meccanismo di cascading quindi nel momento in cui abbiamo dei fogli di stile organizzati in una gerarchia dobbiamo decidere qual è la regola che si applica effettivamente poi ad ogni elemento abbiamo già intravisto questa cosa quando abbiamo detto che appunto c'è questa gerarchia gerarchia che è data dalla posizione degli elementi nell'albero html derivante dalla parsificazione del contenuto html però essendoci la possibilità di specificare più fogli di stile più stili in posizioni diverse dobbiamo conoscere questa gerarchia prima di tutto a livello più basso abbiamo lo stile di default del browser se voi non applicate nessuno stile per unione di quelle proprietà degli elementi il browser ha un suo default che quindi utilizzerà per esempio pagina bianca sfondo bianco testo nero più grosso per gli h1 più piccolo per gli h2 3 eccetera e questo è il suo default poi ci sono gli ostili esterni che sono sostanzialmente quelli che andremo ad utilizzare quelli presenti in un file esterno il .css uno o più di questi file tra l'altro che possiamo averne anche più di uno e che vengono caricati dalla pagina html nella sezione di header nella sezione di header possiamo anche direttamente scrivere dello stile cosa sconsigliata così come fare direttamente uno stile in line all'interno del tag html quindi usando l'attributo style vediamo degli esempi nelle prossime slide quindi c'è il default del browser poi ci sono gli stili esterni quindi un file esterno con delle regole viene caricato nella sezione add con questo tag apposito link rel style sheet type text css href e questo è il link assoluto relativo al file che deve essere quindi disponibile come risorsa sul server web e caricabile quindi dal browser e il file contiene testo testo come questo h1 h2 eccetera con le sue regole che si applicano ai selettori che abbiamo identificato e quindi in questo caso questo font size 17 si applicherà all'h1 e comparirà di 17 in verde e l'h2 comparirà in rosso e così via questo è il meccanismo più utilizzato lo stile interno invece scrivere all'interno dell'head tramite un tag style direttamente le regole CSS ovviamente non è una cosa raccomandata è preferibile usare stili esterni soprattutto perché generalmente un sito è composto da più pagine html comunque vogliamo tenere separato proprio a livello logico e quindi anche a livello di file lo stile dal contenuto e quindi riserviamo queste modifiche diciamo particolari solamente a situazioni diciamo che lo richiedono e che per la verità non sono molto comuni anche perché possiamo caricare più stili esterni stile in line appunto l'ultima spiaggia usato solamente per cambiamenti locali molto locali quindi mi verrebbe da dire solo per fare una prova ogni tanto o appunto in qualche caso estremamente particolare dove magari non abbiamo la possibilità di andare a fare delle modifiche agli altri stili e quindi se aggiungiamo un attributo style con qualcosa di scritto possiamo effettivamente andare a cambiare lo stile solamente dell'elemento che contiene quell'attributo ci sono tutta una serie di regole di priorità che sono queste che vedete qui sulla destra che sono più complicate in realtà di quello che abbiamo detto finora quindi abbiamo detto che c'è lo stile del browser di default poi in realtà può esserci uno stile definito da parte dell'utente quindi l'utente può cambiare i default del browser sostanzialmente che vengono comunque sovrascritti diciamo cambiati dallo stile dell'autore della pagina quindi stili esterni nei quali come abbiamo detto dalla regola più generica la regola più generica viene sovrascritta se in conflitto dalla regola più specifica pensate appunto all'albero html le regole che si applicano ai figli hanno prevalenza rispetto a quelle dei padri se sono in conflitto e se c'è lo stesso livello di specificità per esempio che so abbiamo scritto h1 qualcosa color red poi abbiamo scritto h1 color green quella specificata dopo vince o caricata dopo vince quindi è un altro modo di sovrascrivere diciamo il comportamento di certe regole poi ci sono gli stili in line e poi ci sono questi marcati come important punto esclamativo important che però vi invito ad usare solamente se veramente necessario definiti eventualmente dall'autore quindi nel file css o nello stile appunto collegato alla pagina e poi quelli definiti dall'utente che magari vuole fare modifiche di qualche tipo particolare indipendentemente da come è stata pensata la pagina quindi la specificità delle regole css determina quale regola css è applicata poi dal browser effettivamente nel momento del rendering quindi ogni selettore ha il suo posto nella gerarchia delle specificità per esempio vengono prima i selettori di tipo poi quelli di classe poi quelli di d queste regole sono anche abbastanza complicate qui vedete questa immagine che di fatto vi spiega come queste regole funzionano che ovviamente non è da conoscere ma diciamo ci fa capire qual è la complessità perché per esempio le regole si basano anche sul numero di elementi che sono diciamo il numero di elementi selettori di un certo tipo piuttosto che di un altro e così via quindi tra l'altro ecco vi ricordo che abbiamo sempre la possibilità all'interno del browser di andare a vedere con l'inspector che cosa sta succedendo quindi qual è la regola effettivamente applicata se riprendiamo la pagina di prima anche questa pagina avrà sicuramente l'uso di un css quindi vedete qui negli stili vediamo sempre qual è poi effettivamente il che so prendiamo questo che è in rosso gli stili che sono applicati all'elemento stesso e quindi che sono eventualmente sovrascritti quindi che erano in conflitto con con regole più interne e quindi possiamo andare ad analizzare effettivamente cosa sta succedendo addirittura anche cambiare il contenuto e quindi per esempio posso attivare e disattivare certe regole piuttosto che cambiare direttamente il valore e vedere sostanzialmente l'effetto e quindi questa è una specie di debugger che ci consente anche però di fare degli esperimenti live parliamo parliamo ora di un aspetto diciamo interessante del css assolutamente da conoscere che è il cosiddetto box model modello a scatola a rettangolo del css è uno degli elementi basi del css ogni elemento in css messo sulla pagina è considerato una scatola rettangolare quindi un elemento rettangolare quindi dal singolo carattere stiamo parlando del singolo carattere fino al paragrafo fino a tutti gli elementi tutti gli altri elementi di qualsiasi tipo che mettiamo all'interno della pagina ovviamente potranno essere anni dati uno dentro l'altro disposti sulla riga disposti uno sopra l'altro eccetera però sono dei box degli elementi rettangolari per i quali possiamo andare a specificare tutta una serie di proprietà prima di dire quali sono le proprietà guardiamo questo modello all'interno nella parte più interna c'è il contenuto quindi se è un carattere un abc un qualcosa di questo tipo è diciamo il carattere stesso che ha le sue dimensioni nel suo aspetto ma anche le sue dimensioni qui ci interessano in termini di modello a scatola le dimensioni in particolare e che so 10 pixel per 15 pixel o qualcosa di questo tipo e nel momento in cui si sa che queste sono le dimensioni viene collocato sulla pagina considerando queste dimensioni all'esterno del contenuto c'è un'area di padding di cui possiamo definire le dimensioni dopodiché c'è un bordo le cui dimensioni possono anche essere zero quindi può non esserci non essere visibile questo bordo anche se logicamente presente e poi c'è un'eventuale margine che viene considerato per diciamo collocare tutti gli elementi sulla pagina e quindi distanziare gli elementi gli uni dagli altri tramite questo margine a seconda del tipo di elemento possiamo diciamo andare a specificare alcune proprietà ma altre invece sono già determinate per esempio nel padding il colore di background è quello del contenuto e non può essere specificato il margine non ha un colore di background quindi è trasparente e non ha un background mentre invece il bordo che può anche essere di dimensione zero e risente del colore di sfondo che è stato usato per il box ma può anche essere specificato il colore da parte come le varie dimensioni tra l'altro di ogni lato in maniera indipendente quindi qui vediamo una rappresentazione come quella che vediamo all'interno del browser e la dimensione totale è chiaramente la somma di tutti questi valori in orizzontale o in verticale si possono impostare con delle apposite proprietà in quelle liste di 200 proprietà ci sono le varie proprietà anche relative al box se andiamo a vedere per esempio sempre nell'esempio che avevamo prima nel browser quindi abbiamo già aperto ecco qui sotto vediamo il box model relativo all'elemento che abbiamo selezionato abbiamo selezionato questo quindi possiamo selezioniamo questa e vediamo che la parte interna è 337 per 124 c'è un padding le cui dimensioni tra l'altro cambiano a seconda del bordo e possiamo no non possiamo editarla però diciamo in certi casi possiamo editarle adesso non mi è chiaro perché non possiamo editarle comunque diciamo come potevamo editare certi elementi del 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 css forse forse in chrome bisogna editarle direttamente in questa maniera quindi non si può editare no allora sarà sovrascritto da qualcos'altro a 4 pixel forse dovremmo mettere penso ecco e quindi bisogna andare a studiare come funziona diciamo tutto il css applicato a questa pagina che non è un'operazione proprio banale perché come vedete ci sono tutta una serie di fogli di stile dal foglio di stile di più di basso livello ecco forse era questa quindi se togliamo il padding allora bisognava andare a lavorare direttamente su questi valori e quindi che so volendo andare a modificare qualcosa quindi chiaramente le cose fatte da altri sono sempre di più difficile gestione rispetto a quelle che facciamo noi e quindi abbiamo in mente come funziona tutta la cascata e la priorità delle varie regole comunque gli strumenti di inspector del browser vi possono essere estremamente utili per capire cosa c'è che non va e capire se modificando una proprietà ottenete effettivamente quello che desiderate oppure no parliamo in quest'ultima parte di lezione degli schemi di posizionamento del css come abbiamo detto il css può essere usato per cambiare l'aspetto e quindi abbiamo detto appunto colore dimensione bordi cose di questo tipo ma anche per il posizionamento soprattutto dalle versioni più recenti del css ci sono tanti diversi tipi di posizionamento questa è la versione diciamo così base e quindi quella presente dalle prime versioni del css per fare posizionamento diciamo secondo quanto immaginato inizialmente ma ci sono anche dei modi più recenti anche più flessibili per fare questa operazione nonché dei framework che sono adatti a fare queste operazioni che generalmente sono anche abbastanza complicate se fatte a mano perché essendoci tante opzioni è molto facile confondersi come avete visto prima per esempio modificare una regola magari ce n'è un'altra che la sovrascrive che ha priorità più alta e così via e quindi non sempre è facile ottenere l'effetto desiderato comunque diamo un'occhiata a come funzionano questi schemi di posizionamento di base quindi lo static è quello del normal flow cioè quello che otteniamo senza fare modifiche secondo il tipo di blocco se i blocchi sono blocco o in line quindi disposti in verticale uno sopra l'altro oppure da sinistra a destra andando a capo se necessario il relative il relative sposta quindi se specificiamo la proprietà relative sposta il blocco dalla sua posizione nel normal flow quindi avrebbe una certa posizione e questa viene spostata l'absolute l'absolute e il fixed posizionano direttamente il blocco in una certa posizione che è determinata o dall'elemento che lo contiene quindi absolute o fixed che è dalla viewport quindi dalla finestra del browser se vogliamo avere qualcosa che stia fisso rispetto alla finestra del browser useremo il posizionamento cosiddetto fixed non è il caso che diventiamo espertissimi di tutti questi meccanismi perché appunto come dicevamo poi tenderemo ad usare un framework nel momento in cui abbiamo bisogno di realizzare questo tipo di posizionamenti in cui molti dei problemi sono già stati sostanzialmente risolti da chi ha scritto il framework e quindi si tratta di applicare una certa serie di classi per esempio quei selettori di classi che ci consentono di andare a dire come si devono comportare i vari elementi non solo dal punto di vista dell'aspetto grafico ma anche del posizionamento quindi normal flow static come abbiamo detto sono tutti gli elementi sono posizionati nel normal flow e quindi i block level appaiono uno sopra l'altro per ognuno di questi si applica quel box model di cui dicevamo inclusi gli elementi div e che possono essere usati per creare delle scatole all'interno delle quali mettere altri elementi gli elementi in line sono disposti in maniera orizzontale l'elemento contenitore quello span di cui dicevamo prima ecco il vertical quindi i vari padding border eccetera sugli elementi in line non hanno effetto chiaramente perché altrimenti diventerebbero dei box quindi acconta solo lo spazio sinistra destra il relative positioning quindi ci sposta relativamente alla posizione che avremo nel normal flow quindi possiamo specificare left top quindi viene spostato in questa maniera absolute positioning ci sposta tirando fuori il box come se fosse tirato fuori dall'elemento e dalla pagina scusate quindi tutti gli altri elementi si comportano come se questo non ci fosse perché questo viene spostato e posizionato in maniera diretta tramite questo position absolute specificando dove lo vogliamo posizionare e il fixed positioning è di nuovo eliminato dal normal flow ma non si sposta quindi non scrolla non va in su in giù se noi spostiamo la pagina in su in giù ma è fissato sulla viewport quindi sulla finestra quindi se vogliamo che una cosa stia ferma rispetto alla finestra del browser dobbiamo usare questo tipo di posizionamento ovviamente facendo questi spostamenti può capitare che un box vada a finire sopra un'altra quindi per esempio in css bisognerebbe preoccuparsi anche di che cosa viene visto davanti a che cos'altro quindi c'è una proprietà apposta c'è la proprietà zindex che può specificare che cosa viene visto davanti ad un altro elemento e quindi in caso di conflitto cos'è che viene visualizzato ovviamente come dicevo non vogliamo diventare espertissimi di queste cose ma vogliamo almeno capire che ci sono questo genere di problematiche quando cominciamo a cercare di mettere mano a queste proprietà per realizzare dei layout per conto nostro chiaramente dobbiamo fare molta attenzione perché se le regole fanno in modo che gli elementi vadano in conflitto per esempio sovrapposti piuttosto che ci siano altri tipi di problemi il risultato può essere diciamo difficile da comprendere per lo meno all'inizio e potete usare però comunque se volete fare degli esperimenti quell'inspector che è presente in tutti i browser che vi consente di fatto di andare a capire a cercare di capire un po' meglio che cosa sta succedendo esiste anche posizionamento di tipo float nel senso che possiamo dire che un box può diciamo muoversi all'interno della pagina quindi può spostarsi verso sinistra spostarsi verso destra stare al centro e così via questo è utile per esempio quando abbiamo un'immagine che inseriamo in un box e che vogliamo far stare a destra a sinistra del test e così via quindi ci possono essere dei casi in cui abbiamo bisogno di questi elementi che si spostino dinamicamente secondo quanto necessario e soprattutto quando poi la finestra del browser viene cambiata ridimensionata e così via e quindi è spesso usato per esempio con le immagini quando si lavora con il layouting delle pagine quindi no floating se noi facciamo andare un box a destra li impostiamo a destra chiaramente si sposterà dal normal flow e si andrà a finire a destra piuttosto che andranno tutti a sinistra eccetera a seconda di come impostiamo le proprietà e quindi può anche succedere che si creino dei problemi di visualizzazione perché qualcosa finisce dietro dietro un'altra e così via quindi bisogna appunto come dicevamo fare un po' attenzione è anche possibile fare il clear di un float e quindi per esempio fare in modo che diciamo tutti certi elementi appaiano dopo un qualsiasi float quindi nel momento in cui ci sono questi float che si spostano vogliamo che diciamo una volta che si è stabilito dove devono stare il resto appaia dopo e quindi è un po' come forzare un box nel nel suo posizionamento fisso che avrebbe nel normal flow un box sopra l'altro quindi abbiamo sostanzialmente terminato con questa lezione e chiaramente non entriamo nei dettagli di di tutto quanto perché sarebbe troppo dispendioso in termini di tempo e poi come abbiamo già anticipato useremo un framework per realizzare le funzionalità di cui abbiamo bisogno però è utile fare qualche prova per rendersi conto diciamo potremmo dire anche della difficoltà con la quale si deve avere a che fare nel momento in cui volessimo fare le cose a mano e quindi apprezzare anche la potenza che ci viene fornita da un framework in cui molte delle problematiche sono già state risolte e magari risolte anche in una maniera che graficamente e dal punto di vista del layout è diciamo è stata ben studiata ci sono tutta una serie di risorse in rete che potete andare a consultare se siete interessati però per ora fermiamo questa lezione a questo punto e parleremo poi ancora però del posizionamento in CSS perché appunto è un argomento importante bisogna almeno capire quali sono i modelli che stanno al di sotto dei framework che eventualmente andiamo poi ad utilizzare grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione